Musica Ok qui va benissimo, perfetto, parcheggia ok, ah ma ci siete anche voi! Oh ma non ve ne perdete una di tappa di Festival Show! E allora benvenuti qui all'Ignano Sabbia d'Oro per questa settima tappa di Festival Show Con lo spettacolo itinerante di Radio Bella e Monella e Radio Birichina si parte con grandissimi artisti anche stasera Tra un po' vi dirò anche i nomi e dopo? Cast Stellare, assolutamente, anche questa sera qui a Lignano Sabbia d'Oro Allora, tra gli ospiti chi? Gradito ritorno per esempio, eccolo qua, Matteo Amantia Buonasera, stavo aspettando che scendeva un po' il sole così da farmi un bagno Da un catanese all'altro, c'è anche Mario Venuti, grande ritorno, ciao! Ciao! Tutto bene al mare, oh finalmente! Beh ma io ci vivo al mare, per questo al mare Oh, questi ed altri a Festival Show, tra pochissimo! Musica Il soundcheck inesorabilmente va avanti nelle ore pomeridiane anche qui a Lignano Insomma, si sentono anche martellati, ma vediamo un po', vediamo di capire se il palco è già pronto e sistemato Paolo Baruzzo, ma cosa ci fai? Siamo in fragrante qua, mentre stiamo dando una mano a finire i lavori proprio di allestimento del palcoscenico Ma sai che io sono controllato in questa fase? Paolo, sappiamo di una chicca sul palcoscenico di Festival Show qui all'Arena Beach di Lignano E' la chicca che mi sta controllando adesso, guarda! E' una cosa che stavi facendo, perché Paolo è una persona d'utile, vedi? Ciao Luisa! Ciao, ciao, ciao! Allora siamo qui per dire che Festival Show approda per il secondo anno consecutivo alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro Siamo, stupendo, siamo a 30 metri dal mare E noi qui a lavorare! E noi qui a lavorare! Da due giorni la nostra troupe sta lavorando 24 ore ininterrottamente al giorno per montare la nostra struttura Qui a Lignano c'è un palco, devi sapere Luisa, dove fanno tutte le manifestazioni dell'estate Arriva Festival Show, abbiamo fatto smontare quel palco per montare la nostra produzione Ma io sono veramente contenta perché ne ho sempre sentito parlare del Festival Show e finalmente, insomma, quest'anno ci sono Esatto, io ti ho cercata Io però vorrei chiedere a Luisa Corna cosa ci ho preparato di bello Allora, guarda, naturalmente canterò la canzone quella del Festival di Sanremo, no? Quando sono stata con Fausto Leali E poi alcuni brani del mio nuovo album Devo dire, insomma, vedo già la gente, bella calorosa, sarà sicuramente una bella serata Allora, la bella serata sarà ripresa dalle telecamere di Antenna 3, di Free, di Telearena, Telemantova, Brescia.tv Telecamere pilotate dal nostro magico regista Claudio Polotto che è qua anche lui Vediamo se riesce a parlare, non ama parlare Se sarà in regia, se devi ritoccare qualcosa Appuntamento con Festival Show, Pizza Arena, Lignano Sabbiadoro Insomma, posso dire, come avete capito, il clima è molto allegro, ci stiamo divertendo e sicuramente sarà così anche per voi Allora, stiamo un po' esplorando il CD di Festival Show Vediamo un po' da Luca Barbarossa, Lola Pons, abbiamo Matteo Beccucci, Matteo Amantia, Mario Venuti Ecco, sono tutti artisti che si esibiranno tra pochissimo qui da Lignano Sabbiadoro Ma in realtà si trovano anche all'interno di questo CD, ma non solo Sono in compagnia dell'editore di edizioni musicali classe 1, Paolo Verlanzi Ciao, ciao, ciao a tutti Doppio CD, quindi compratelo in tutti i negozi di dischi, distribuzione Edel, faccio lo spot, ok? Prego Secondo CD con tutti i giovani che partecipano al Festival Show Tutti i 15 giovani, oltre ovviamente a 20 canzoni, tra le più importanti del panorama italiano, della musica italiana appunto Viva la musica, anche in CD ovviamente con Festival Show A Lignano Sabbiadoro ovviamente ci sono anche migliaia e migliaia di turiste, anche straniere Hello, where are you from? From Swiss Ok, tonight in Lignano there is a beautiful music, ok? We love Festival Show Festival Show, ok, one minute and start, bye Eh, il mare che spettacolo è, però c'è un altro spettacolo sicuramente interessante che è Festival Show Allora, tra pochissimo parte la tappa di Lignano Sabbiadoro e sarà l'ultima qui al mare Dopodiché, attenzione, ci trasferiremo in città, saremo a Mestre per la prossima tappa in Piazza Ferretto Poi toccherà Spresiano in provincia di Treviso e gran finale a Verona dove vi aspetteremo numerosissimi come al solito Ma intanto godiamoci questa tappa di Festival Show qui a Lignano Bene, tra qualche istante si apriranno le cancellate, tutta questa bella gente affollerà le gratinate, le tribune, insomma Che faranno loro godere questo grande spettacolo che, lo facciamo dire loro Ragazzi, cos'è che state aspettando? Merry Christmas! Ecco qua il Beach Arena che si sta riempiendo, tante belle persone che si godranno una serata fantastica Qui, insomma, a Lignano Sabbiadoro Festival Show, vi aspetta anche a voi da casa Attenzione con Mario Venuti, con Matteo Beccucci, con Matteo Amantia, con Nathalie Vincitrice di X Factor, con Virginio e tanti altri C'è da divertirsi tutto qui a Festival Show, a tra poco Come al solito le bellezze non mancano mai qui a Festival Show, ce le abbiamo belle più che mai in costume E chiedo a Paolo, quindi questa Miss House di questa sera, insomma, attenderà la vittoria, no? Anche della tappa di Lignano Ma credo che la giuria abbia fatto un lavoro difficilissimo per andare a individuare la più bella di questa sera La più bella e la più elegante perché c'è Miss House, io chiamo subito Mauro Casarin che è qua nei paraggi Lui è il coordinatore di questo concorso, ciao Mauro Ciao Paolo, ciao a tutti Lui è l'uomo più invidiato di Festival Show Sempre immerso di bellezza, tante ragazze così Qual è il trucco per rendere queste ragazze sempre più belle, sempre più affascinanti? Ma guarda, abbiamo il supporto dei parrucchieri tagliati per il successo Che aiutano le ragazze ad essere ancora più belle di quelle che sono Allora, non vi dirò lei esattamente chi è e cosa fa, semplicemente guardare per credere Fammi un bel saluto come sai fare tu Ecco qua, attenzione, per la prossima tappa lo farò anch'io Ciao Allora, appena una settimana fa eravamo a circa tre chilometri di distanza, Bibione Adesso siamo a Lignano Dovrebbe esserci la stessa presentatrice Lola Pons è appena arrivata, sempre più bella Ma come fa? Come fa? Come va? Fatte 5, come state tutti quanti lì? Siamo sulla sabbia Quindi le calzerete che c'entrano Ma me lo hanno detto proprio alla porta Quindi sono felicissima Poi c'è un bikini Guarda, le ragazze erano anche col tacco, pensa te Eh sì, lo so, ma la sabbia l'estate va vissuto come si deve Quindi poi tutti quanti in bikini Avete capito anche tutti quanti? Chiarissimo, allora se tutto è chiaro, se avete sentito bene Non vi rimane adesso che guardare Festival Show inizia e le presenta con Lola Pons Ciao Ecco, non volevo irrompere nella diretta Però il nostro Franco Girardello è sempre prontissimo Qui a raccontare il Festival Show Anche a chi non può venire a vederlo È bello, noi raccontiamo quello che capita sul palcoscenico Abbiamo il nostro monitor Quindi come sono vestiti i cantanti Oltre che come cantano, no? Perché quello si sente E tutto il resto che non si vede a casa Noi lo raccontiamo via radio Agli amici di Birichina Belle Monella E a questo punto ci siamo La settima coinvolgente più che mai Tappa di Festival Show qui da Lignano Sabbiadoro Può ufficialmente iniziare E con un grande pubblico Che come al solito vi presento qui alle mie spalle E con un grande pubblico Come a tutti vogliamo Voi, 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 voi.